Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Ma questa sincro intro, che bella è Sincro intro Hai visto che roba? Io non ho visto però vedrò quindi tanta roba Avevo fatto partire gli iPad con i Rico sincronizzati, cioè pazzesco Eh, tanta roba, con sta skin spaziale proprio Comunque ragazzi, il ragazzo qua in canotta che fa sempre i flex si chiama Raxor, se ancora non lo conoscete Canale emergente, il link del suo video è in descrizione E supportatelo, supportate anche il video con un bel like E io non so, lei cosa ci fa qua, però io così a naso penso che questo sia un video spacchettamento Sì, siamo qua nella schermata delle megacass, già abbiamo 10 megacass da aprire Quando ancora non ci sono in game effettivamente Siamo sulla versione sviluppatore, lo ricordiamo, ma tra l'altro con 10 casse Io direi che ce le apriamo proprio così in scioltezza, così cominciamo subito a spacchettare, pronto? Assolutamente sì Apriamoci così senza darci i tempi, va parti, parti pure Ma qual è l'obiettivo del video? Questo qua è tipo un antipasto Perché con queste box ci cominciamo a sbloccare la skin di Rico Ma io ho uno schermettino luminoso Doveva essere un antipasto, lei è già al dessert Ecco Eh, allora Raxor ha rovinato il video Ecco, perfetto Perché dal titolo non si capiva, questa è una Una battaglia, una battaglia a tutti gli effetti per chi trova più skin E lei ha già fatto un punto Io pensavo che con 10 megabox non uscisse niente, invece lei ha già fatto un punto Allora, già la domanda è, l'icona vale? L'icona non vale, valgono solo le skin Però vince alla fine della fiera Le skin in generale sono per spareggiare Però vince chi trova più skin di Rico Vabbè, caro ferro, io ho due skipettini qua Altra skin e poi No, questo è brawler E i brawler non valgono Io ho 7 skip luminosi Sì, ti piacerebbe Non sto scherzando, te lo giuro Hai 7 che è uno skip luminoso, gli altri non lo sono Ah, vediamo un po' Mortis, interessante Mortis skin di Mortis Infatti dicevo Ma aspetta un attimo, io che ho trovato Macy I brawler non valgono, no? I brawler non valgono Ma scusami a te, ma Mortis io non ce l'ho sbloccato Sì, l'hai sbloccato Ah sì, ce l'ho sbloccato Allora No, i brawler non valgono Solo le skin Solo le skin Quindi te stai due e sto una Allora i brawler li facciamo da me Così proprio abbiamo Ok Perfetto, mi piace Stessa spisa per trovare i brawler da Raxorone, ragazzi Mi piace Siamo su 2-1 chill Ok Io volevo aprire giusto queste megabox Per sbloccarci entrambi Rico Ma sei già partito in quinta il video, ragazzi Vediamo un po' Ma altra domanda da fare La rarità delle skin E questo vale Io invece ho appena pareggiato Perché ho trovato Shelly Sherif Ma ste 102 gemme Che mi sono uscite anche a me Ma usciranno poi anche Dal 12 di luglio? Assolutamente sì E in realtà La probabilità è molto bassa Tipo Non lo so Però è molto molto bassa Se succede una bella fortuna Considerando che questa è la terza che apro Direi che È stato bello fortunato Cioè a me anche Era A me anche Oh Altra skin Passa un ventaggio Tra l'altro Sì sì Ma infatti non bene Fera ma Io sinceramente le avevo viste E non avevo capito Da dove fossero uscite fuori Ste Ste robe Sì in effetti è strano Cioè 100 E effettivamente È abbastanza Però in realtà Ho visto lì Dalle nostre cose Che abbiamo con Supercell Che effettivamente Può succedere È una cosa abbastanza rara Ma può succedere Comunque Io ho bloccato Rico Appena fatto Appena finito il mio Il mio incipit Ecco Ah ok Allora devo darmi una mossa Sentire cosa Ti voglio chiedere un'altra cosa Per quel che riguarda le skin Valgono proprio Cioè la rarità Ha un punteggio Ogni skin ha il suo punteggio In base alla rarità Che funziona Me l'hai chiesto prima Non ti ho risposto No No vabbè Io non guarderei la rarità Tu dici di guardare la rarità anche? Ah io a te lo sto chiedendo Perché non lo so Io l'avrei fatto senza rarità Sinceramente Ok Chi trova più skin Però chi ha quelle di Rico Chi trova più skin Perché già Cioè Già lei segna Quello che gli gira per la testa Sinceramente Non eviterei Di andarmi a complicare ancora la vita così Va bene Ha senso Ha senso Ok Però la domanda è Se io trovo Quelle tre di Rico Prima di te Vinco io? Eh sì Vince proprio Chi trova prima le skin di Rico A post Sì ma in 100 In 100 megavox Non le troveremo Cioè è impossibile Cioè devi proprio Scolare tantissimo Guarda che io le ho trovate No è vero Non le ho trovate tutte Tre in 50 Ma le ho trovate due in 50 E quindi considerando che Però tu considera che io faccio questo video Anche per alcuni ragazzi Che nel mio sneak peek Dello spacchettamento Mi avevano detto Guarda tu non ne hai trovate Perché Non avevi sbloccato Rico Ok Rico Sovrano Ok Ci sta E aprendo tutte le box Da te faremo solamente 100 Ok Perché Rico Siamo essi fare 101 Potremmo fare 101 Va bene Ok Ok a post Va bene E come per magia Eccoci qua ragazzi Le casse sono diventate 100 Wow Pazzesche le magie dell'app sviluppatore Tra l'altro ho sentito ragazzi Che se mettete like Raxor regala a tutti quanti 100 casse Così Ragazzi è vero È vero Però dobbiamo anche arrivare A un milione di iscritti Entro stasera Sì Vabbè Entrambi però Entrambi certo Ok Va bene E vabbè Un milione di iscritti In due li facciamo Un milione di iscritti In realtà in due Sì no Un milione attesa Aspetta no In due sì Già li abbiamo Graxone e Gigione Stiamo arrivando Raxor State attenti Insieme Siamo già attaccati Ok Esatto Allora a parte le cavolate Io sono già pronto Con la prima megabox Quando desidera Dottore si prepari Io vado Dimmi te quando premere Vadi 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 Parti pure Parti pure Allora io non so Se ci diamo un ritmo Come vogliamo andare Ok io ho già Già skin Subito skin Il primo Allora il fatto qual è È che tu vedi me Io non vedo te Quindi non so Io mi regolo Vedendo un po' Altra skin Colt Vado spesso 5 skin Tu dove sei ancora A 2 A 3 Cos'era Sì io non le sto contando Perché io so già Come funziona So che adesso Andiamo un po' lenti Ok Per poi dopo Trovare subito In fila Le due stick E tu che hai conti Poi alla fine Io ho già perso Ho perso il conto Delle mie Facciamo poi il conto Alla fine Sì 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 alla fine Alla fine Chiaro certo Vabbè io Nella mia testa Siamo 5 a 2 Nella mia testa Può essere Ok Può tranquillamente essere Però tu hai detto Che comunque valgono Le skin di Rico Quindi io punto a quelle Non mi interessa Trovarle Assolutamente Attenzione Uh Altra skin Scegli la stella Tanto so già Che trovo mille skin Adesso e poi Lui appunto Trova Rico E io rimango Sì ma è ovvio Che andrà così Perché io non sto trovando nulla Le cose sono due O sta caricando Tipo un brawler leggendario Probabilmente mi sembra Un po' Cioè neanche uno skip luminoso Oh ragazzi Altra skin Va bene Ok Adesso ho veramente Perso il conto Ma io ho le casse Baccate Non mi sta scendo niente Oh ragazzi Io Oh altra skin di nuovo Fermati Brock Ma perché Altra skin di nuovo Aspetta Guarda guarda Ah no Spike Sakura Va bene Stavo impazzendo ragazzi Tutto sto casino Due skin a box Faticamente E infatti C'è qualcosa Che non va Io ne ho trovata una E buona grazia Per ora No però Ripeto Che vince Chi trova prima Tutte le skin Di Hyperrico Perché Attenzione Frank Preistorico Perre guarda quanti skip Che cacchio è Ma che cos'è Non ci stanno Attenzione Eh però Ecco il primo luminoso Con Uuuuh No E t'ho detto io No Ce ne sarà altro Perre Ah no Mi sembrava Il corpo brawler Mi sembrava Il corpo brawler Guarda skin di morti Stray in una botta Però adesso ci saranno Ma non sapevo Che finiva così ragazzi Però io pensavo fosse Corvo il brawler Guarda non c'è spazio Veramente Mamma mia Vabbè ci sta Ti ho un po' ripreso Dai va bene Un po' Sei in vantaggio Hai una skin Ormai non contano più le skin Contano gli Hyperrico A questo punto Hai ragione anche tu Ma adesso tra poco Mi esce anche l'altra No aspetta Ho trovato 100 gem Però non vale niente Però se ti fa a piacere Ho trovato 100 gem Ok va bene Ho trovato la seconda cassa Però va bene Scusate ma io non ho capito Sta cosa Cioè I Rico dovrebbero venire Verso di me Non verso di te Cos'è sta storia E in effetti Tra l'altro Ti devo fare una domanda Importante Vai 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 Tra tutti gli hai per Rico Qual è la più bella Fammi una classifica Direttamente Non so se sono in tre Puoi anche dirmi La migliore o la peggiore Allora ti dico Secondo me Un grande tasto dolente È che l'attacco non cambia Avrei preferito vedere In base Come non cambia bro Eh no dico Tra le tre non cambia Sì che cambia Ma non è vero Sì quella bling cambia Ma non è vero Ma sì cambia Te lo assicuro Aspetta ma tu dici La versione trasformata Io dico la versione La versione trasformata Quando usa l'hyper Sì Sì Se spara Spara bling Ah ok Però nella versione Non trasformata Non spara bling Ma penso che Questa cosa ci sia anche Allora tu cosa hai trovato Ad essere quella delle gemme Dai se troviamo Quella bling Facciamo un test in live No perché io Con l'hyper Non ho testato In effetti Ma sono sicuro al 100% E ho trovato Un'altra skin di Jesse E io di Frank Io tra l'altro Mentre parlavamo Ho trovato altre skin Ma non le ho neanche commentate Perché ero Volevo capire sta cosa Vabbè comunque Devi farmi una top 3 Punto Allora vabbè Togliendo questo dettaglio Che dopo chieremo meglio Ti direi al primo posto Quella delle gemme viola Ok Al secondo Quella dei bling No Non lo so In realtà Sono tutte belle Devo vederle un po' Nel dettaglio Però se al primo posto Ti direi quella delle gemme viola Ma perché gemme viola Scusami Eh Perché quella delle gemme viola Cioè nel senso Tu mi hai chiesto Quelle per me È perché il viola Ha un bel colore Ci sta bene Ok 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 Però anche le altre sono belle Su quella delle gemme Poi pensavo che dicessi Quella dei bling Invece nel momento Ci mettevi anche l'altra Delle gemme Allora ho detto Avrà un finish per le gemme Ma in realtà Sì è un po' difficile Da dire Ho trovato Rico Però ho trovato Quello brigante rosso Io ho trovato Buster Quello che non vuole nessuno In questo update Anche io ho trovato Buster Prima Cioè siamo collegati Da un filo invisibile Ragazzi Eh palesemente Solo che la differenza Che in questa cassa Troverò La scu Sette Attenzione Qualcosa c'è per forza Per niente Anch'io ho trovato Trovo tra l'altro Dovrebbero essere Due skip luminosi Ok questo è il primo Il primo che ho trovato Anch'io Ok Continua No peccato Ci sta Ci sta Ok buono Ok Tra l'altro è benissimo Sboccare gli errori Perché sono due brawler Che girano Anziché uno Come siamo abituati E quello l'ho trovato Poco fa Mentre facevi la tua top 3 Ok Eh la tua top 3 Invece quella Dimmi la tua La mia top 3 È primo di tutti Il bling Rico bling Eh sì In effetti è molto bella Ci sta Sì per cui è la mia Sì per cui è la mia No no In realtà sono Io devo essere al primo posto Quella gemme viola Le altre due sono molto simili In realtà Dipende Io comunque sto sbloccando Tutte le skin Che hai trovato tu all'inizio Le sto trovando io Sì infatti infatti Sulle skin in realtà Ci stiamo pareggiando abbastanza No vabbè Io stavo pensando Che in realtà Quella verde Sarà quella più Cioè quella Dei gemme verdi Sarà quella che Mi piacerà un po' meno Lo so già Perché la sbloccheranno tutti E allora Io voglio le altre Sì Sì ci sta Ha senso Ha senso Io ho trovato Chrome Skin di Brock Molto bene Comunque Cosa da dire sulle casse Per chi non lo sapesse È che non stiamo trovando A trovare i brawler rari E super rari Solo epici Mitici Leggendari I brawler Non parliamo di skin Solamente epici E mitici Leggendari Assolutamente Tutto vero Tutto vero Io ho trovato infatti Un brawler epico Che è Pam Eccola qua Perfetto Molto bene E in tutto ciò Rico Non si è ancora visto Rico Si aggira Si aggira solo Sull'account Io ho trovato solamente Esatto Ho trovato solamente Le skin di Rico Quelle si Ritira tutto R Abbiamo un vincitore Però aspetti Io ho ancora una possibilità Sì però tu hai detto Nel video Ho tutti i ricchi Ho trovato più skin Posso avere almeno Questo merito O no Allora In teoria Io ho un punto Se tu Hai più skin di me Hai un altro punto E a quel punto A questo punto Vabbè Non lo so Non lo sai neanche te Cosa stai dicendo Ragazzi Impazzito Va bene A quel punto Possiamo vedere Che ha trovato più brawler Se siamo in pareggio Lui nel dubbio Mette le mani avanti E ha vinto lui Nel dubbio Aspetta Sì ho vinto io Perché ti ho detto Chi trovava prima Le tre skin di Rico Tanto scolta Io non so bene Che punto siamo Ma Non so se hai capito Che io non ho trovato Neanche ancora una Capisci Ah Ok Vabbè Ti vengo incontro Lo stesso Non sussisterà proprio In questo video Ti vengo incontro Lo stesso Se no I ragazzi Già chiudono qua il video Un po' di Allora Facciamo Io ho vinto La sfida di Rico Facciamo La sfida Delle skin Chi ne ha trovato Di più Che è quella secondaria Se lì hai un punto Se anche lì fai un punto Allora lì vediamo Che ha trovato più brawler Capito così Io ragazzi Ho avuto il mio momento Di gloria Inizio video In poche parole Raxx Sta cercando di dirvi questo Ho avuto il mio momento Di gloria Inizio video Quando ho trovato Quelle 57 skin Una dopo l'altra Poi lui pian piano Ha cominciato a recuperarmi E poi a calà Cominciato a uscire Rico di qua Rico di là Esattamente Mi piace di più Quello con le gemme viola Uscito Ma quello con i blingang Carino Uscito pure quello Oh vabbè È giusto che sia così Vabbè comunque Dovresti apprezzare Che ti stia dando modo Di recuperare In un qualche modo Cioè una vita Dedicata a questo brawler E non mi esce Eh ma al troppo Stroppia Cosa vuol dire Non sai neanche Non sai neanche tu Cosa vuol dire Vabbè ragazzi Se sei troppo Ossessionato da Rico Poi Rico Ti si ritorcerà contro Direi che funziona così No ragazzi Iscrivetele nei commenti Cioè il modo Per trovare Rico E non volerlo trovare Dici Esatto No vabbè Non volerlo trovare No però Non essere ossessionati Da Rico È giusto A cui Rico piace È quello A me piace Rico È un ottimo brawler Però non ho l'ossessione Esistono anche altri 70 Anzi 81 brawler Quindi Cioè In una tua top 80 brawler Rico dove si trova? Chi è? Scegli la stella Scegli la stella Eee Oddio Ma è farti la classifica Ciao No vabbè Tipo a metà O Ottantesima posizione Prima No no Lo metterei in una top 5 Top 5 Ok va bene Sì sì Cioè al di là dei buff Nerf e cose Proprio come brawler In sé per sé Sì una top 5 E altra domanda Scomoda E Tra le Visto che questa È la seconda volta Che mettono delle skin hyper Quelle di Rico Meglio queste skin hyper O quelle Che c'erano Per buds Cioè Quelle che ti sono piaciute di più Eee No penso queste qua di Rico Sì Sono più colorate Più belle Quelle di buds È bello il tema Però È un evento più che altro È quello che ando di affascinare E poi erano le prime Cioè Non ci credo È finito Lol Non ho trovato neanche un Rico Mamma mia Non so che punto sono Ma in teoria Dove essere anche io Verso la fine Dai Credo Comunque brawler Se ne trovano veramente pochi Pensavo un po' di più Ragazzi non ho trovato neanche un Rico Non l'ho trovato Ho detto Il problema è quello L'ossessione L'ossessione Non batte Il talento Cosa c'entra Cosa c'entra Cosa c'entra Cioè tra l'altro Guardate quante Lui li ha trovati Li ha trovati anche subito Tra l'altro Ragazzi Tu ti ha trovato la roba Guarda non controllare Quanti brawlerai Sarebbe veramente Molto content Se ti avessi battuto Con le skin di Rico Con le skin totali E con i brawler trovati Ma io sul tuo canale Avrò una vendetta Per forza Eh Chi lo sa Come chi lo sa Avrò una vendetta Sul tuo canale Basta Lo staremo a vedere Comunque sul mio canale Vi dico già Mentre finisco qua È che lì andremo a punti Perché io le cose le faccio a punti Quindi l'epico vale uno Basta cambia le regole Ogni 5 minuti Cosa dici No non le cambio Le cambio solo se c'è un pareggio Qua lui non ha voluto fare appunti Quando poteva forse Oddio salvati no Con le skin che ho trovato con Rico Non mi starei salvato Vabbè con le skin in realtà Siamo andati simili Però Rico è Ma tu che ne sai Adesso quando usciamo Magari io le ho trovate tutte E tu no che ne sai Va bene vai ti aspetta Eh ma non so quante neanche Io ti giuro che ne avevo 100 Ragazzi qua dobbiamo parlare Per allungare il brodo Quindi parliamo Vabbè poi possiamo tagliare No no Non tagliamo perché Sto andando veloce Adesso guarda Toro un brawler leggendario Che tagli Guarda 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 Non è questa È la prossima Guarda 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 Quattro perché c'è Non sta più uscendo nulla Basta Signori ha finito anche Rax Cioè si è preso i suoi tempi Va bene Allora vediamo un po' Andiamo sulla sezione skin E io spesso Sono già sulla sezione brawler Va bene anche quella Non succede niente Vediamo intanto Che ha trovato più brawler Ha senso Ah ok Brawler Tredici Tredici Epiche Quattro Quattro Anche io E mitiche Nessuna Zero E leggendario Zero Hyper Hyper Tre C'è due No vabbè io avrei vinto sulle skin ragazzi Avrei vinto Ma in realtà no Perché le Hyper sono skin Tu hai vinto di uno sulle skin Avrei vinto sulle skin Ma se si arrivava a competere sulle skin Voleva dire che avevo trovato anche io i Rico Quindi saremmo stati pari Eh vabbè Però è tutto un ipotetico il mio Vabbè ascolta Io comunque quello Quello sovrano base ce l'ho Metti quello bling E facciamo il test insieme al volo Vediamo la differenza Ci sta Ci sta Ha senso Vediamo Eh no Forse cambia Non cambia aspetta È azzurro Guarda c'è anche da che è azzurro No fai un po' uno screenshot Eccolo Eh no Hai ragione sai Eh ma scusa ma sono bling quelli Ma no vedi che c'ha tipo delle stelline Cioè è sia un bling che una gemma Eh forse hanno unito assieme È uno scam Vediamo Vediamo con l'hyperattivo Perché forse li cambia No 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 Io a sto punto credo che non cambi neanche con l'hyper sai Vediamo Se con l'hyper tira letteralmente delle gemme Sono viola Eh ma hanno sempre quella croce lì Eh anche da te è fatto così Eh sì sono sempre fatti quei bling Cioè è sta gemma bling strana Cioè l'hanno studiato in un modo che va bene per tutte le skin Esatto Quindi ho vinto io Ho ragione io Vabbè Lo ripeterà Ragazzi se sul suo canale vinco io Ti giuro che te la te la meno mezz'ora anch'io guarda Dai ci rifaremo ci rifaremo quando faremo la sfida con i due brawler nuovi Forse lì chi lo sa Assolutamente sì ragazzi Ci vedremo anche per la sfida Barry contro Clancy Non mancate Noi ci vediamo presto Grazie mille Raxorone per essere stato in nostra compagnia Vi ricordo in descrizione Grazie per tutti i riferimenti Ciao belli